Ciao 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 Spettacolare avventura dove piango e provo a dare il meglio di me Adesso, quindi adesso provo a dare il meglio di te A posto, a posto, curati, 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 curati No, perché? Non ci mi sembra, perché ti ammazzo per un saccaso, perché? Mi dischi C'è il cane, c'è il cane, c'è il cane, c'è il cane, c'è il cane Sei stata incredibile, e lo so che non stai come fa Non mi fanno più Se qualcuno, non ho capito, sta alle tue spalle Ok, ok C'è la col muro, fantastico Colpiscilo mentre c'è la col muro Ok, ok Ma, 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 ma Mi ha tolto tutta la vita Che ti ha colpito mentre hai schivato Questo è un po' di damage Eh? Ma non... Che lo fai così vicino? Ma non era morto Madonna, mi cura Diooo Non curarti a un metro da lui, non curarti così vicino E poi ti chiedi perché muori E poi ti chiedi perché muori Cioè... Almeno quello Almeno non fa tipo di dire proprio così a caso Ma non so perché... Non ho il tonico Penso che prima è meglio essere No, non funziona così Boh, abbiamo liberato la zona Ok Magari ti chiedono quel po' Poco e si calza Mh Attento a cosa vicida Senta a cosa vicida No, 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 no Aspetta, aspettate No, c'è poco C'è poco Hydra War Ah, quello di cui parlavano sempre, sai C'è una paura Ah, lì c'è un tizio che mi sta guardando Hello there Guarda bene, dove sei? Eh, è familiare, sembrava quasi all'inizio del gioco Dipende cosa intendo per l'inizio del gioco L'angue è freddo denso Perché hai detto oh? Fa merda Sta provando Paura che ci riesca Basta che cadi e rotola Cadi e rotola Eh, ma c'è anche l'altro poi Eh sì, quando ritorna Però se aspetti che torna Eh sì, aspetta che torna Aspetta che torna E così almeno sono sicura che parto proprio da... Ah, ok No, no No Eh eh Ah, prima non ho mai visto Prima Faccio così Mi perdo di vista Poi stare di me Facciare di cazzo Ah, uno è qua L'altro? Lui dice che riesco a farlo Scendi Rotola e prendilo E' l'altro No, non è facile Da dietro, da dietro, da dietro, da dietro, da dietro Da dietro, da dietro Almeno tranquillo Oh Ma come siamo diventati bra Ah Hello there Amore Amore C'è, bene Ma che dio è imposto Sì A Ah facciamo una cosa ok tagli le scale io ho smittente ok non importa di niente WTF bravi sinistra adesso ho le 3 schiva le chiva le chiva schiva le chiva le chiva recupera la stamina continui a salire continui a salire loro urleranno ti ammazzano questi corri in avanti corri in avanti per la porta per la porta per la porta continui a pigliare pigliare, 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 pigliare pigliare, pigliare, pigliare sali fino a in cima ok ok allora Andrea non lo sa o meglio lo sa io le ho detto che per me il suo obiettivo era arrivare in un posto e sconfiggere un posto e io sono soddisfatto e Andrea può non giocare più a questo gioco perché non ce la fa più è provata mentalmente psicologicamente e io sono convinto che volendo potrebbe arrivare fino in fondo perché c'è ancora tanto da fare la velocità a cui stai andando ok non si aprono la nebbia la velocità ah ok e beh alla fine è vicino abbastanza ah che Andrea hai visto quanto tempo ci metti quando vuoi uscire tutti quanti hai visto quanto ci metti invece correndo lo so ma la strada quanto è vicino la strada siiii polposo 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 siiii polposo siiii polposo cos'è dai il primo piano c'è una zampa 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 il primo piano c'è un diamante il biscotto d'ora infatti anche lui è diventato grande vabbè un cane un cervo un lupo un lupo cervo un lupo cervo e se Andre fai attenzione sa perchè lei sa ah ma ha tipo anche io non ha portato tutto senso nei suoi confronti hai tipo uno scudo cioè cioè allora Andre hai visto cosa ti aspetta quello per me è l'ultimo boss e poi io considero per per me per me per me il gioco l'hai finito ma io ti farò un paura io ti farò arrivare da lei lì 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 finchè non ce la farà dirà basta e probabilmente la vedremo giocare a Spiro vediamo va bene grazie mille per essere stati con questa testa fluttuante e questa ragazza esorbitante e alla prossima stop it avventura avventura lo puoi chiamare avventura per me per poi è un design per noi e per loro ma soprattutto per me ma mi dispiace addio